Benvenuti a questo nuovo video tutorial nel quale vi voglio presentare Cuttlefish, un programma che trovo carino, interessante e che può sempre venire utile, quindi mi accingo a presentarvelo. Quando capirete cosa fa Cuttlefish probabilmente capirete anche meglio questo titolo che a prima vista forse può sembrare un po' strano ma poi diventerà tutto immediatamente chiaro. Allora, Cuttlefish è il termine inglese che sta per seppia, proprio così seppia e la mia ipotesi per questo nome, che l'autore del programma ha segnato questo nome, probabilmente è stato scelto perché è una seppia, se minacciata sapete bene che reagisce fuggendo e espellendo quell'inchiostro nero per confondere il nemico e quindi la seppia è un po' il simbolo delle reazioni rapide di fronte ad uno stimolo, ad una minaccia in questo caso. Perché dico così? Perché Cuttlefish è un programma che permette di automatizzare sul vostro PC, nel nostro caso specifico in Ubuntu, delle azioni, di automatizzare delle operazioni da far fare al PC mediante l'impostazione di eventi che se intercettati scatenano delle azioni. Ecco, è proprio questo un po' quella che io trovo la similitudine con la seppia, quindi c'è un evento, uno stimolo esterno che scatena una reazione alla quale sono legate una o più azioni da compiere. Ecco, portandoci questa metafora nel nostro mondo, del nostro PC con Ubuntu installato, abbiamo appunto Cuttlefish, quindi ecco un po' il motivo di questo titolo, quindi ad ogni reazione, ogni reazione implica un'azione e andiamo a vedere in pratica cosa significa, come si usa questo programma che trovo appunto possa essere utile in diverse circostanze. Allora, prima di tutto lo si deve installare perché non è installato per difetto, ma è un programma che si trova comunque nell'Ubuntu Software Center, quindi basta cercarlo, ecco qui ho aperto l'Ubuntu Software Center con già la stringa di ricerca Cuttlefish e vedete che io l'ho già installato, vistino verde, e c'è un programma appunto con questo nome da installare. Una volta installato, possiamo anche chiudere Software Center, una volta installato Cuttlefish è immediatamente utilizzabile e lo si trova, una volta avviato la prima volta, lo si trova con un'icona in alto nel pannello, assieme agli altri indicatori, e l'icona come potete vedere stilizza, forse è un po' piccolo, non so se posso ingrandire, no perché non si ingrandisce il pannello, dovrebbe essere stilizzato una seppia, insomma, ecco quindi si fa click sull'icona del programma e si può aprire la configurazione stessa del programma oppure uscire dal programma. Questa è la parte di installazione e di primo avvio di Cuttlefish. Che cos'è dunque Cuttlefish? Ho già spiegato un po' su cosa si basa, quindi su uno stimolo, una reazione, un'azione, ed è paragonabile a chi magari sul proprio smartphone Android utilizza già programmi di questo tipo, se andate a cercare nel player, nell'ex market di Google, insomma, il Play, Google Play, andate a cercare Tasker oppure Atuma e guardate le descrizioni di questi programmi, vedete che fanno praticamente la stessa cosa, hanno lo stesso scopo sul vostro telefono di quello che ha Cuttlefish sul vostro PC. Ecco, sono dei programmi che permettono di creare delle azioni automatizzate che si attivano sulla base di uno stimolo, quindi sullo smartphone tipicamente, per esempio, può essere che quando arrivate a casa vostra, tramite GPS, il telefono si accorge che siete nella zona di casa vostra e si attiva, per esempio, la connessione Wi-Fi, ecco, che magari durante il giorno non usate, arrivate a casa, si attiva da sola. Ecco, questo è una tipica azione automatica che programmi come Tasker o Atuma vi permettono di fare sul vostro telefono e sono azioni simili a quelle che potete impostare con Cuttlefish sul vostro PC. Ecco, quindi Cuttlefish si basa appunto su un meccanismo composto da uno stimolo, quindi quando a cosa devo reagire da una reazione in quanto tale che è composta da una o più azioni che devo fare. E allora vediamo in pratica cosa significa. Allora, a puro scopo dimostrativo, imposterò un paio di azioni, un paio di reazioni, di stimoli, giusto per mostrarvi il concetto di funzionamento di Cuttlefish, anche se queste azioni non hanno un gran senso pratico. Perché dico così? Perché è mia intenzione creare un'azione automatica, un evento che all'apertura del programma di gestore degli archivi, cioè quello che gestisce gli archivi compressi tipo zip per intenderci, mi faccia aprire anche la calcolatrice. Ecco perché dico che sono azioni che non hanno un gran senso, ma veramente per dimostrare come funziona Cuttlefish, va benissimo anche se non ha un gran senso pratico questo esercizio. Rispettivamente vorrò anche fare l'azione più o meno contraria, nel senso che una volta aperto gestore di archivi e la calcolatrice, quando chiudo la calcolatrice voglio che mi si chiuda anche il gestore di archivi. E allora procediamo. Apriamo il nostro Cuttlefish, quindi Open Configuration. Ecco qui ce ne sono già un paio che ho impostato per me, che uso sul serio veramente, ma noi andiamo a creare quelle nuove ovviamente, perché vi voglio mostrare come funziona Cuttlefish. E quindi si preme il pulsante New, vedete l'interfaccia è molto spartana, molto semplice, quindi New, e quando ho schiacciato New vedete che si apre un'interfaccia, un pannello a due schede, Basics e Reaction, dove in Basic definite il riflesso, quindi la reazione, che descrivete in questo pannello con le sue caratteristiche e anche lo stimolo, vedete qui, e se questa reazione, quindi Reazione, deve essere attivata mediante uno stimolo oppure no. Dico oppure no, perché voi potete semplicemente creare una sequenza di azioni da eseguire e poi attivarle manualmente attraverso un elenco che appare, come vedete, nell'indicatore. Perché appare? Perché una delle opzioni della reazione da descrivere è List in Indicator Menu. Quindi se è On, per difetto è On, lo vediamo qui, quindi New Reflex, vediamo che è apparso una voce New Reflex qui. Se io metto Off, List in Indicator Menu Off, qui quando sarà salvato sparirà questa voce. Show Notification vuol dire che questa sequenza di azioni farà apparire anche, grazie al sistema di notifiche di Ubuntu, quei fumetti che appaiono qui in alto a destra, farà apparire quando l'azione viene eseguita, quando ha finito, eccetera. Quindi se vi disturbano troppe notifiche potete spegnere anche quelle, se no le lasciate accese. E poi appunto c'è l'opzione, qui l'ultima opzione, di far attivare appunto questa reazione attraverso uno stimolo, oppure no. E quindi rendere la serie di azioni attivabili solo manualmente, oppure no. diamogli un nome, quindi diciamo che demo apre gestore archivi, che poi gli archivi compressi, quindi lo chiamo così. e noi sfruttiamo il fatto che deve essere attivato da uno stimolo, no. Quindi diciamo che lo stimolo al momento non è ancora attivato, facciamo così. e vedete che lo stimolo può essere scelto fra diverse categorie di eventi, di tipi di eventi. Quando vorrete usare anche voi, o vi interesserà installare il catelfice e usarlo, potrete poi andare a curiosare nelle varie categorie di cosa potete fare o meno. Noi andiamo sul semplice, stiamo sulla categoria applicazioni, e diciamo faccio partire un'applicazione, quindi application starts. Vedete che sotto applicazioni c'è la possibilità di, quando si ferma un'applicazione, rispettivamente quando parte. Noi vogliamo scatenare qualcosa quando parte una certa applicazione, quindi scegliamo quell'evento. E ecco che lo stimolo diventa application starts, cioè quando parte una certa applicazione. E qui appare anche una tendina che mi permette di scegliere l'applicazione. Quindi io dico, abbiamo detto, che facciamo, scateniamo l'evento, la reazione, quando parte il gestore di archivi compressi. Quindi la nostra reazione è all'apertura del gestore di archivi, deve succedere qualcosa. Andiamo a dire cosa, la reazione, quindi fino adesso abbiamo descritto la reazione, con quale stimolo verrà attivata, ci mancano le azioni, l'ultima parte. Una o più azioni, dico una o più perché vedete che qua in basso c'è il pulsante più per aggiungere le azioni, che adesso è vuoto. Quindi io aggiungo la prima azione e cosa ho detto che deve succedere? Quando apro il programma della gestione degli archivi voglio che si apra il programma della calcolatrice. Quindi di nuovo start application, faccio start application e scelgo quale applicazione aprire. Quindi andiamo a cercare la calcolatrice, dove sarà mai la calcolatrice. Andiamo su, andiamo su, andiamo su. Quanta roba che c'è installata. Questi sono i programmi installati ovviamente, l'elenco rappresenta i programmi che sono installati sul vostro PC, quindi calculator. Voilà. Abbiamo creato, in questo momento abbiamo finito di creare una sequenza di stimolo, reazione e azione minima, semplice. Riassumo, quando partirà il gestore di archivi la reazione sarà, apri anche la calcolatrice. Ecco, qui è finita. Qui naturalmente con il più possiamo aggiungere anche più azioni, quindi a uno stimolo questa reazione può far seguire più azioni. Facciamo back e vedete che appare nell'elenco adesso. Demo apri gestore archivi con il suo pulsante edit per poi andare a modificarlo se ci serve. Comunque l'abbiamo creato. Vedete che appena salvato è sparito, cioè non risulta qui nell'elenco perché gli ho detto di non farmelo apparire nell'elenco delle serie di azioni da far partire manualmente. Se l'avessi attivato, lo faccio subito se no poi mi dimentico, list in indicator menu, quindi elencalo nel menu dell'indicator, a questo punto mi appare demo apri gestore archivi. Potrei farlo anche partire, le azioni che ho previsto le posso far partire anche manualmente. Nel mio caso non mi serve, torno a spegnerlo. Adesso è pronto Cuttlefish, posso anche chiudere il configuratore ma finché c'è l'icona della seppia qui sul pannello degli indicatori è attivo il programma. In questo momento sta aspettando lo stimolo per far reagire la reazione e far eseguire le azioni. Cos'è lo stimolo? Quindi andiamo a cercare il nostro gestore archivi, faccio clic per aprire il gestore archivi e vediamo che ecco si è aperta anche la calcolatrice, proprio quello che volevamo. Quindi all'apertura si apre la calcolatrice. Facciamo l'altro esercizio per completare questa demo nel nostro tutorial. Quindi riapriamo la configurazione di Cuttlefish, creiamo una nuova reazione e diciamo chiudi calco, o diciamo così, demo, chiudi calcolatrice. Quindi le notifiche non mi interessano, non mi interessa elencarlo nel menu, lo voglio che si attivi con uno stimolo, quindi stavolta sotto application voglio che si attivi quando fermo, quando chiudo un'applicazione. In questo caso la nostra applicazione è la calcolatrice, quindi lo stimolo si attiva quando chiudo la calcolatrice e voglio che alla chiusura della calcolatrice, il contrario dell'altra azione, voglio che si fermi, quindi si fermi come azione il gestore archivi. Quindi facciamo il contrario, andiamo a cercare il gestore archivi, che qui mi presenta sempre l'elenco al contrario, dove è, dove è, eccolo qua, Archive Manager. Quindi questa è diciamo una sequenza di stimolo, reazione, azione, tra virgolette contraria, speculare a quella che abbiamo creato prima, quindi chiudi calcolatrice. Chiudiamo la nostra configurazione di Cuttlefish e proviamo a chiudere la calcolatrice, così vediamo se funziona, se abbiamo fatto giusto, se si chiude anche il gestore archivi. Chiudiamo la calcolatrice e vediamo che si è chiuso anche il gestore archivi. Ecco, questo è il principio di funzionamento di Cuttlefish e come avete visto presenta diversi numerosi stimoli chiamati eventi, numerosi tipi di eventi che possono essere assegnati a uno stimolo, sia gli stimoli sia le azioni da fare per diverse categorie. Vedete che so, il bluetooth attivato o disattivato, rispettivamente attivarlo o disattivarlo, a un certa ora del giorno fai qualcosa, ecco la rete è connessa al wireless o alla LAN oppure no, insomma tutte queste cose. Ecco, vari eventi che allo stato attuale di questo applicativo, che dovrebbe anche ancora ulteriormente evolversi nel futuro, presenta già tutti questi eventi, si possono già fare interessanti sequenze di azioni e reazioni a certi stimoli. Ecco, spero che abbiate trovato interessante questo programma come l'ho trovato io. Un'ultima cosa che devo dirvi prima di chiudere il video è l'icona, è un dettaglio sull'icona, in realtà, guardate devo riaprire un attimo, in realtà questa icona è, diciamo, integrata e confacente al resto degli indicatori, quindi in bianco e nero, non è quella che appare appena avete installato il programma. Per far apparire questa icona bisogna fare una piccola operazione di copia e incolla, ecco, in realtà l'icona che vi appare qui sul pannello degli indicatori è simile a questa, il tentacolo della seppia, colorata, in violetto e i tentacoli verdini, ecco. E non so se è un difetto temporaneo o se è una scelta voluta dall'autore del programma, comunque lui ha scelto di far apparire questa icona colorata come indicatore, ma ha già incluso nel pacchetto anche questa icona un po' più confacente, bianca e sfondo nero. Come si fa a attivare quella rispetto a quella colorata? Si deve andare in questo percorso, che io vi lascerò in descrizione del video, ovviamente, si deve andare in questa cartella e, attenzione, dovete aprirla come amministratore, perché è una cartella di sistema che non può essere modificata con la vostra user normale. Quindi dovete aprire Nautilus, cioè il file manager, come amministratore e un modo per farlo, ve l'ho già mostrato in altri video, aprite un terminale, scrivete sudo sudo spazio Nautilus, enter, vi chiederà la password di amministratore e vi si aprirà Nautilus in modalità amministratore. Allora sì che potrete modificare questa cartella, modificare che cosa in questa cartella? Ecco, l'icona che viene usata come indicatore è Tentacle Indicator PNG, si chiama così, quella originale la dobbiamo fare una copia e la chiamiamo Tentacle Indicator PNG.old, come ho già fatto io, vedete qui, quella originale colorata come questa, l'ho chiamata così. Poi prendete la Cattelfish Indicator, che è questa, e ne fate una copia anche di quella, vedete che è quella bianca con sfondo trasparente, che poi appare qui su bianco sfondo nero, e ne fate una copia anche di questa e la chiamate Tentacle Indicator come quella originale. A questo punto chiudete Cattelfish e attivate di nuovo il programma e lo riavviate e vi appare la nuova icona qui in alto, bianca invece di questa violetta, tutto qua. Ecco, mi sembra di avervi detto tutto, c'è forse qualcosa ancora da dire, no? Mi sembra che non ci sia più nulla da dire. Il meccanismo di impostazione delle azioni, tutto ve l'ho mostrato, spetta a voi se siete interessati, sbirciare un po' nei vari eventi per creare azioni interessanti anche per voi. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, un saluto e alla prossima, ciao ciao! Ciao!